Parlo a te. Parlo a te che vorresti cambiare la tua vita e le sue prospettive. Parlo a te che vorresti smetterla con i soliti problemi, la stanchezza, la mancanza di tempo per te stesso, la famiglia, gli hobby, le passioni. Te che vorresti smettere di dipendere dagli altri e smettere di dipendere da un reddito che non basta mai per tutto. Che vorresti smettere di accontentarti. Te che vorresti una vita più ambiziosa e più tua, una vita che non si esaurisca col lavoro, una vita che sia una continua opportunità. Sì, parlo a te, cambia il modo in cui vedi le cose. Meritare di più e vedere riconosciuto il tuo valore non è un sogno. Anzi. Esistono opportunità per cambiare in meglio la propria vita, per vedere riconosciuti talento e impegno. Opportunità in cui vieni ripagato puntualmente per il tuo valore. In cui i tuoi guadagni sono legati alla qualità di ciò che fai. Opportunità in cui la tua vita viene prima del tuo lavoro. In cui puoi avere tempo ed energie per te stesso e per la tua famiglia, in cui vieni aiutato anziché ostacolato. Ti esprimi senza essere giudicato e fai esperienze e viaggi. Sì, esistono opportunità di trovare ciò che hai sempre sognato. Sicurezza e serenità per te e la tua famiglia. Sfrutta le opportunità. Puoi entrare in un mercato ricco, innovativo e in espansione. Quello del benessere. Noi abbiamo cambiato la nostra vita cogliendo l'opportunità Herbalife Nutrition. Un'azienda solida e affidabile nata negli Stati Uniti ma già radicata in Italia. Herbalife Nutrition aiuta le persone a cambiare la propria vita e a orientarla verso un benessere a 360 gradi. tutto questo grazie a un'attività imprenditoriale indipendente, a prodotti di qualità, a uno stile di vita sano e attivo e a una community che si riconosce in questi valori. E indipendenza non vuol dire solitudine, anzi, quando vuoi ottieni proprio l'aiuto che ti serve. Un sistema di formazione completo ti farà avviare la tua attività professionale in modo da adattarla perfettamente alla tua vita attuale. Puoi scegliere fra tanti modi in cui sviluppare l'attività, da casa o dove vuoi, sfruttando anche tutte le possibilità che la tecnologia oggi ci offre. Se sei curioso e vorresti capire come è possibile cambiare la tua vita con Herbalife Nutrition, il tuo prossimo passo è quello di andare a fondo e approfondire. Di conoscere persone che hanno cambiato la propria vita, che potranno ispirarti e aiutarti. Chiedi alla persona che ti ha invitato a guardare questo video quando e come puoi saperne di più.